L'ottimizzazione dei prodotti di guadagni ha portato alla unificazione se non alla eliminazione di tutte le interfacce in svariati dispositivi elettronici. Ad esempio l'interfaccia USB in smartphone, tablet, portatile ecc. è nella maggior parte dei casi unica. Quindi se non si rientra nei più probabili casi previsti si è costretti a ricorrere ad un app USB che seppur indubbiamente utile rende tutto il lavoro di ottimizzazione un inguardabile e scomodo accrocchio. Questo giro è toccato a little e darmi la possibilità di rendere più versati i miei dispositivi elettronici proponendomi a meno di 10 euro un adattatore app USB 3.0 da quattro porte. Finalmente potrò collegare più di una chiavetta al router per espandere la capacità del NAS se non che cloud casalingo. Oppure collegare al tablet mouse e chiavetta USB contemporaneamente avendo in precedenza già provveduto a costruire un adattatore OTC per micro USB. Il tutto immortalato per contemporanei e posteri su un precedente video. Sempre che il buon Elon Musk riesca a salvarci portandoci su Marte che personalmente direi fa già abbastanza schifo e che se la terra sarà in condizioni peggiori probabilmente avrà fatto uso di alcol utile e fumo senza nemmeno andare a messa. Oppure caricare più dispositivi contemporaneamente utilizzando un solo power bank o un solo alimentatore seppur ripartendo l'amperaggio totale oppure tante altre applicazioni che ora non mi vengono in mente ma di certo utile anche sulla navicella di Elon che sicuramente non avrà più di una presa USB a posto. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.